Nella serata di giovedì presso la Gali Gruppo del Presidente Angelo Galifi, l'Arcobaleno Fuzzol ha presentato i quattro nuovi acquisti per la stagione 2020-2021. Cauè Nasario, portiere 2001 che seppur nella passata stagione ha vestito già i nostri colori dal mese di febbraio, a causa del Covid non ha potuto terminare la stagione. Adesso però riabbraccia l'Arcobaleno da subito e quindi avrà modo di continuare ciò che aveva lasciato in sospeso. Paolo Morabito, ulteriore portiere che insieme al sopracitato ragazzo verde-oro difenderà i pali della squadra. Classe 97, Messinese arriva dopo tre ottime stagioni nel massimo campionato regionale di C1. Salvatore Incorvaia, che nelle ultime stagioni in B ha vestito la maglia dell'Akragas, viene ingaggiato, oltre che per le indiscutibili doti tecniche e tattiche, per la sua esperienza, che in gruppo giovane come quello dell'Arcobaleno farà certamente la differenza sul piano dei risultati. Leonardo Custamagna, colpo di mercato vero e proprio che il presidente, insieme a tutto lo staff dirigenziale, regala a Mr. Marcelo Mittelman. Nonostante la sua giovane età ha vestito maglia importanti tra Serie B e A2, che lo rendono un giocatore con un bagaglio di esperienza non indifferente, arricchito dalla vittoria di un campionato e una Coppa Italia Under-19 nazionali con il Maritmo Futsal Augusta e i play-off di Serie B con la promozione in Serie A2 del Futsal Polistena. Le parole del presidente Angelo Galifi «Sono contento di aggiungere queste pedine ad un organico che già di per sé è di alto valore. L'arrivo di questi giocatori sicuramente ci pone davanti degli obiettivi importanti che cercheremo di raggiungere con il massimo spirito di sacrificio e dedizione al lavoro. Non serviva rivoluzionare una rosa, ma solamente puntellare dove ce ne fosse di bisogno, perché noi i talenti li abbiamo già a casa nostra, senza dover andare a cercare altrove merito di una società che in questi vent'anni di vita si è fortemente battuta per portare avanti un progetto giovani a forte prevalenza ispicese e adesso vengono raccolti i frutti di tutto quello fatto, perché portare Ispica con i ragazzi locali in un campionato nazionale come quello di Serie B non può che essere un orgoglio sia per noi che per tutta la comunità.